shade bentornato su spettacolo mania come stai ci preoccupiamo un po perché insomma abbiamo visto questo smile che si scioglie il titolo del nuovo disco diversamente triste dc come stai mi sto sciogliendo un po anche io devo dire e non per il caldo un po per la tensione chiaramente di rilasciare un album dopo così tanto tempo e non sapere poi chiaramente come verrà preso dalle persone soprattutto perché ci ho messo tantissimo del vissuto degli ultimi cinque anni tantissima vita vera tantissimi fatti personali di conseguenza spero che venga preso bene vabbè ma questa tensione c'è sempre no per ogni nuovo disco per ogni nuova canzone che si fa immagino assolutamente effetti non è che un'ansia nuova comunque io l'ho sentito e devo dire che a me è piaciuto per quanto possa contare una in più dai uno in più e una e una è andata ok anzi io l'ho sentito e mi sono anche fatta come dire mi sono segnata delle parole chiave che ti vorrei segnalare così per magari anche parlare in modo un po più non sempre non la canonica domanda risposta ho ascoltato il tuo album e ho segnato delle parole chiave un album naturalmente che trovo molto umorale e ci sono molti sbalzi no sì appunto umore e anche molto autobiografico quindi è la prima parola chiave che mi è venuta in mente è vita cioè tu racconti parte della tua vita in questo disco eventi drammatici e non senza filtri come dicevi prima e dici proprio ciò che volevi dire no con la musica che ti piace quindi vita e libertà mi così parlami un po di queste due di questi due concetti legati al tuo album guarda hai praticamente detto la stessa cosa che pensavo io c'è tanta vita vissuta esperienze positive e negative ho rimuginato anche un po se dire proprio tutto ottenermi alcune cose per me però alla fine penso che specialmente in un'epoca in cui il disco ormai è diventato più un feticcio per collezionisti chi spende dei soldi o anche solo del tempo per ascoltare il mio disco perché anche lì è pieno di uscite costantemente ogni giorno siamo inondati di nuova musica dicevo chi sceglie di ascoltare questo disco deve avere qualcosa di di vero deve avere tutto tutto quello che posso dare quindi non mi sono sicuramente risparmiato nei racconti nei dettagli e mi sento di dire anche nella nella libertà di poter fare dire collaborare con con tanti altri artisti della scena rap con cui non collaboravo da tanto tempo e la stessa libertà che poi mi ha permesso di arrivare a rifare il rap per come l'avevo sempre fatto prima di farmi conoscere nell'ambito più commerciale più nazional popolare con le hit degli ultimi anni sanremo insomma tutti quei contesti poi mi hanno portato anche un po a farmi conoscere nelle case degli italiani poi c'è un'altra parola che mi sono segnata che è tempo e che riguarda sia questi tuoi cinque anni no in cui hai atteso per tirare fuori questo disco e anche il fatto che tu dici che ami lungo termine no perché la gente magari non ha tempo come dicevi appunto prima di ascoltare così la vita delle persone messa in musica in qualche modo sì purtroppo sì questa è la tendenza dell'ultimo periodo secondo me la pandemia anche accelerato questo questo processo di di fast food anche nell'ambito della musica i dischi quando iniziato ad ascoltare rap io duravano anche due tre anni adesso se durano una settimana ti puoi ritenere fortunato motivo per cui spero che che questo disco abbia il ciclo opposto degli album che escono adesso che magari fanno il botto vanno primi e poi spariscono dopo pochissimo spero che che magari venga scoperto e riscoperto nel tempo avvenire e che comunque possa lasciare qualcosa in chi lo ascolta perché c'è tanto vissuto come ti dicevo e mi dispiacerebbe che non venissero colte determinate vibes perché possono veramente essere spesso e volentieri anche di conforto per chi lo ascolta a proposito di questo mi faccio un po i fatti tuoi visto che racconti un po della tua vita quindi ti volevo chiedere intanto mantieni le promesse e ti premetto che promesse uno del mio pezzo preferito che ho sentito grazie sì perché l'ho trovato molto sai quella frase dove dici ti chiedi mai dove vanno le promesse che non mantieni come come poteva essere no quindi ci sono i se una sorta di slide indoors però appunto promessa e non mantenuta insomma ecco quindi tu le mantieni invece le promesse io la promessa non mantenuta che ti ha deluso di più e ti ha portato a scrivere questo pezzo allora le mantengo le mantengo sempre anche a costo di farmi del male io e se non le ho mantenute in determinati casi e perché ho visto che dall'altra parte invece non hanno mantenuto le loro quindi non aveva più senso continuare ad avere rapporti diciamo che le delusioni più grandi le ho avute nell'ambito lavorativo dove chiaramente c'è nel nostro ambiente tutti ti promettono tutto ti promettono una canzone un pezzo bello tosto su questo no dove le mandi a dire diciamo per cui io cerco sempre di non illudermi ma alla fine mi illudo perché sono stupido sono sempre mi viene in mente quella scena di scrubs in cui il dottor chelso dice a jd sei un idiota e lui dice no sono un sognatore però molto spesso le due cose sono sinonimi quindi ma tu risponditi con la seconda risponditi che sei un sognatore non dire io sono veramente un sognatore che altro illudo molto facilmente quando ti promettono di poter esporre i tuoi i tuoi pensieri più profondi in determinati contesti e tu ci tieni veramente tanto quei pensieri e poi alla fine la cosa era era tutta una menzogna chiaramente dici ma perché me l'hai detto allora perché mi ha illuso di questa cosa è sempre brutto poi scoprire tutti i giochi di potere che ci sono dietro perché alcuni te lo dico sinceramente sono talmente meschini che io non riesco neanche a pensarli vorrei essere certe cose non si possono immaginare ma io vorrei essere come quelli che fanno i video che escono ogni tanto su tik tok con i cuffioni al microfono dove dicono sì io il mio progetto di business la mia il mio mindset la mia mentalità zero chiedimi di scrivere un testo anche sul sul cambiamento climatico te lo scrivo ma riuscire a ragionare in maniera imprenditoriale in quel senso perché poi chiamila chiamiamo perché sei artista cioè secondo me chi è artista e chi è imprenditore poi a volte le due cose combaciano però insomma con delle secondo me pesanti differenze che poi si sentono senti alleggeriamo un attimo ti piacciono le ragazze lunatiche si è questa che lunatica è un'altra canzone che mi è piaciuta parecchio il mio tallone d'achille diciamo ultimamente sto cercando di cambiare un po eccomi mi piace anche il pensiero di una persona che c'è che è presente che un porto sicuro dove dove approdare la sera dopo una brutta giornata tra le sue braccia quindi mi piacciono però hanno quel fascino anche questo sul lungo termine non dura molto troppe sorprese magari no ecco poi ha detto tornare a casa e qui insomma parliamo anche di pendolari no di questa canzone che parla insomma appunto di di tornare a casa dopo una lunga giornata il tutto naturalmente metaforico diversamente triste perché diversamente triste credo che sia diversamente triste qualsiasi persona che nella vita di tutti i giorni esponga al mondo un sorriso che però è un sorriso colante come quello della cover un sorriso che si scioglie e cela delle sensazioni di grande tristezza di solitudine non è un sorriso falso nel senso brutto del termine un sorriso che magari ti stampi in faccia per cercare di rincuorare una persona a cui vuoi bene per girarla su di morale per farla sorridere o magari semplicemente solo perché non hai la forza di di dire quello che che hai dentro quindi tutte le persone che fanno questo quotidianamente per me sono diversamente triste è un'altra cosa infatti che mi era venuta in mente un'altra parola chiave era clown no tu è un po forse la sindrome del clown hai detto no che chi sorride sempre si pensa che non soffra invece non è così giusto assolutamente mi viene in mente qualche anno fa ho avuto la fortuna di girare negli ospedali con patch adams e io dopo la prima volta che siamo andati in ospedale sono uscito che ero distrutto piangevo mi ricordo che patch mi aveva regalato un naso da clown e l'avevo riempito di lacrime di schifo perché poi quando piangi fai schifo cioè è orribile da vedere come cosa e gli avevo detto patch ma come fai a fare questa cosa tutti i giorni e a rifarla di continuo perché io non c'è dopo oggi sono distrutto e lui mi ha detto beh soffro la sera arrivo in stanza piango piango come un disperato però è talmente la voglia di fare del bene talmente la voglia di far sorridere le persone che poi il giorno dopo mi resetto si trova la forza io credo che vabbè patch è l'esempio più grande una sorta di veramente di gandhi della nostra generazione però credo che tante persone nel loro piccolo quotidianamente siano il patch adams dei loro cari dei loro amici dei loro familiari tante cose che ti disturbano tante cose che ti hanno fatto arrabbiare che ti rattristano però poi ci sono le cose belle come il tuo summer tour no sei in tour live tira su la cosa più bella la musica live perché chiaramente c'è un impatto faccia a faccia con il pubblico io poi parlo tantissimo col pubblico interagisco gli chiedo cose gli chiedo se vogliono salire sul palco a sfidarmi in freestyle quindi c'è sempre una sorta di scambio dico sempre che è una questione di energia poi datemi la vostra che io vi do la mia ed è la verità ed è per me l'apice dice scrivo le canzoni per poterle cantare dal vivo e e poi c'è sempre anche il momento dopo il concerto in cui mi portano regali facciamo quattro chiacchiere facciamo le foto quindi è la parte più bella la cosa meno bella e sono i viaggi perché l'italia è un disastro il treno in ritardo i trasporti si nasoli cancellati però poi quando sali sul palco dimentichi tutto e pensi che poi quelle dieci ore di viaggio ne sono valse la pena e quindi lì sopra sei felice sono felicissimo è il momento in cui sono più felice in assoluto nella mia vita ti auguro di fare tanto live tanta musica live un'ultima cosa perché so che dobbiamo insomma stiamo per salutarci noi c'eravamo incontrati a parte a sanremo che ho intervistato con federica carta che la ritroviamo anche in questo album no siete proprio amici e vi avevo intervistato anche insieme per un doppiaggio per la riscossa mi ricordo ecco allora so che il doppiaggio anche una grande forza per te è una cosa che ti piace molto stai continuando immagino ci puoi così rivelare un po cosa stai se stai lavorando adesso ho appena finito una serie per paramount plus che vivis embatted che era famosissima negli anni 90 e io quando ero piccolo la guardavo i miei genitori si incazzavano sempre perché dicevano un sacco di parolacce e io ho doppiato bivis e j aks ha doppiato batted quindi fa fa riderissimo e uscirà la prossima settimana su paramount plus sto doppiando un protagonista in una serie netflix e un protagonista in una serie di paramount plus che però di cui non posso dire ancora i cittadini dopo dopo l'estate visto sempre mega attivo e il doppiaggio e la musica come vanno d'accordo cioè cosa preferisci hanno d'accordo si ammazzano però sai cosa e ci tengo troppo che ho studiato troppi anni per fare il doppiatore non posso non farlo quando mi propongono un lavoro ci sono delle volte che vorrei dire no però arrivando da comunque una famiglia in cui non è che non ci fosse il piatto a tavola però non siamo mai stati benestanti e dire di no al lavoro mi sembra sempre una roba da ingrato quindi anche quando arriva il lavoro brutto di doppiaggio non riesco a dire di no perché io l'amo come è proprio una passione per me che cos'è che ti appassiona così tanto al doppiaggio è il fatto di essere ogni giorno qualcuno di diverso puoi essere chiunque sono stato letteralmente chiunque negli ultimi 5 6 anni veramente poi capita che magari la mattina 66 un papero in un cartone per bambini e il pomeriggio sei un serial killer di una setta in un thriller quindi capisce troppo divertente cambiare le voci cambiare l'interpretazione e ho veramente gli occhi a cuore quando parlo del doppiaggio perché poi in italia abbiamo dei doppiatori sono dei fuori classe ed è proprio un'arte per me so che molti adesso prediligono la lingua originale però il doppiaggio è veramente affascinante soprattutto ti permette di guardare una serie senza leggere i sottotitoli e perderti magari le espressioni di tanti attori che sono sono molto bravi in molti casi jx lo ritroviamo anche lui nel tuo disco nessun problema generazionale insomma andate d'accordissimo nonostante sia un pochino più grande di te è uno zio io mi sento di dire anche un papà perché comunque volentemente ha degli atteggiamenti molto da padre ecco anche solo che arrivi in studio ti fa trovare la colazione preparata ti coccola un po no in un certo senso e tu dici wow ma tu sei jx e mi hai mi hai fatto il caffè mi hai scaldato una brioche fatta lì sul momento c'è wow e quindi insomma tutto il magari quello che ci può essere di gap generazionale è un miscuglio di cose che voglio comunque imparare da lui e gentilezza sua perché lui è una persona molto gentile molto disponibile grazie shade in bocca al lupo con diversamente triste magari la prossima lo intitoliamo diversamente felicissimo e lì speriamo va bene grazie mille buon tour ciao grazie ciao sono shade un grandissimo saluto agli amici di spettacolomania